Se la vita porta a sognare, tu col jump puoi respirare, aria nuova profumo del mare, questo è il jump, sanno giocare, tutti amici in squadra correndo, in un cerchio ognuno sta dentro, fai con noi le vacanze d'estate, sole e mare salta con noi. Ciao, io sono Filippo Vergoni, direttore dei centri estivi jump di Fano, il jump nasce tanti anni fa proprio da questo centro, dal centro trave e con l'impassare del tempo e la fiducia delle famiglie ha avuto sempre più consensi, fino ad arrivare ad aprire solo su Fano 12 centri suddivisi tra jump e mini jump. I numeri aggiornati dell'estate 2018 parlano di 1300 iscritti, tutti gli iscritti ai centri estivi jump sono tesserati ASI, ASI è un ente di promozione sportiva a cui jump si affida per la promozione e la formazione dei propri istruttori, seguendo comunque una metodologia jump. Via! Ciao a tutti, mi chiamo Jacopo Barattini e sono responsabile del centro estivo jump di Sant'Orso, centro che durante gli anni è diventato sempre più punto cardine dei centri estivi jump grazie alla sua centralità all'interno della zona di Fano e grazie alla sua comodità per poter essere raggiunto anche in autonomia dai più piccoli. I centri estivi jump a Fano sono dislocati in tantissime zone e si dividono in due tipologie, il centro jump per bambini dai 6 ai 14 anni e il centro mini jump per bambini dai 3 ai 6 anni. Anche se la differenza nelle due tipologie di centri è solo per l'età dei partecipanti, il jump garantisce una formazione sportiva a tutti gli effetti. Infatti la programmazione che creiamo è adatta sia per i bambini dai 3 ai 6 anni nei mini jump che per i grandi dai 6 ai 14 anni. In più il jump durante l'estate organizza delle attività con altre associazioni sportive per poter fare attività proprio dentro il centro estivo seguiti da educatori del centro jump e allenatori delle associazioni sportive. Quindi comincia a prendere, manovra con il giallo, perfetto, poi comincia a spingere, esatto, cercando di, bravissima, prendere il giallo, buono, ok, stop, scendi, scendi, sempre in sicurezza. Se la vita porta a sognare tu col jump puoi respirare Ciao, sono Valentina e sono la responsabile del centro estivo jump della zona Sassonia. Il jump non è solo sport, ma è anche educazione, che deriva dal latino e significa tirar fuori, exducere appunto, tirar fuori delle potenzialità che hanno i bambini, siano esse da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista artistico, musicale. Una cosa fondamentale che il centro estivo jump propone, ed è un tema particolarmente importante al giorno d'oggi, è il riciclo. Tutti gli educatori del jump si impegnano e promuovono la raccolta differenziata nei loro centri. Infatti facciamo la raccolta della carta, della plastica, dell'alluminio e soprattutto dell'organico. Essendo un tema così caro ai centri stivi jump, da quest'anno, quindi dal 2019, è stato attivato il servizio jump, un mondo più pulito, in collaborazione con Aset. Quindi tutti i bambini del jump faranno la raccolta differenziata dopo aver ripulito delle zone che sono o vicine al proprio centro o nel centro stesso. Quindi tutti i bambini dotati di sacchettino e guanto ripuliranno le zone verdi per poi fare la raccolta differenziata. Un'altra delle iniziative promosse dai centri stivi jump a tutela dell'ambiente e quindi a tutela del mare che abbiamo proprio qui vicino a noi è stata la raccolta di bottiglie di plastica che sono poi state portate agli ecocompattatori che sono qui nella zona. Rosso! Ci si ferma! Ci si ferma immobile, non ci si muove. Rosso! Ciao, sono Alberto Emanuelli, sono il responsabile dei centri stivi jump di Bellocchi e responsabile dell'attività outdoor. Sono qui per parlarvi del metodo educativo del centro stivi, metodo che ormai è consolidato attraverso dei corsi di formazione che ASI propone e è grazie anche all'aiuto e all'intervento di Semi Marcantonini che è il responsabile della formazione di tutti gli educatori e istruttori che collaborano con i centri stivi jump. Il metodo educativo che il jump utilizza è il metodo del problem solving, cioè attraverso prove di errori. Il bambino viene proposto di superare degli ostacoli attraverso delle prove e in cui noi insegnanti ed educatori cercheremo di fargli delle domande per aiutarlo a trovare la strada più giusta e più opportuna per raggiungere un obiettivo. Quindi un semplice tiro a canestro, un colpo di testa, una schiacciata diventano il bagaglio motorio del bambino stesso e quindi più esperienze il bambino fa, più il suo bagaglio motorio aumenta. Un'altra importante attività che viene svolta all'interno dei centri stivi jump è l'attività di outdoor education, cioè l'attività all'aria aperta dove il bambino riscopre il contatto con la natura e con l'ambiente che lo circonda. Il metodo dell'outdoor education è all'interno di numerosi dibattiti scientifici che hanno portato a dimostrare come questa attività porta grossi benefici sia psichici che motori nel bambino. Do you feel energetic or a bit sleepy? Do you feel energetic? I can see. Sono Alice Malerba, la responsabile dei centri stivi jump della zona sud rispetto a Fano. Infatti negli ultimi anni i centri stivi jump hanno avuto una vera e propria diffusione anche nelle zone fuori Fano, in particolare nell'entroterra fanese, nel pesarese e appunto nella zona sud. Per citarne alcuni abbiamo aperto nuove sedi a Montecchio, a Sterpeti, a Marotta, a Senigallia ma anche molte altre sedi. È proprio grazie a questa ampia diffusione che riusciamo ad organizzare molte altre attività legate al mondo dei centri estivi. Ad esempio il camp Natura Avventura e le notte in tenda. Il camp Natura Avventura è un'esperienza che i bimbi hanno la possibilità di vivere per tre giorni. Si parte alla volta di Belforte a Lisauro insieme ai propri istruttori del jump. Si alloggia appunto presso il castello del Barone di Belforte che è ora stato ristrutturato a residenza turistica e si fanno molteplici attività nella zona, quali le escursioni nel bosco, le uscite al Carpegna Park, le esperienze al maneggio, in piscina e moltissime altre. Le notte in tenda invece sono un'idea nata nel 2018 che è poi stata sviluppata organizzandone molte altre. Sono delle nottate sotto le stelle passate al campo di rugby di Fano in cui i bambini vengono accolti il venerdì pomeriggio e ritornano a casa il sabato mattina. Se la vita porta a sognare tu col jump puoi respirare Aria nuova, profumo del mare, questo è il jump, sanno giocare Tutti amici in squadra correndo, in un cerchio ognuno sta dentro Fai con noi le vacanze d'estate, sulle mare salta con noi Jump! Fai con noi!